Dopo la vittoriosa campagna sarda l'avellino di Giovanni Bucaro si ritrova a preparare una sfida casalinga che potrebbe nascondere mille insidie. Al partegno in puntati piedi arriva la Flaminia di Marco Schenardi che nella scorsa giornata è stata beffata nel finale dal cittadino Agni Corsara per 2-1 al Turiddo Madami, casa dei civitonici. I rosso-blu dopo tre risultati utili consecutivi come dicevamo si sono stoppati nella rincorsa e si ritrovano a galleggiare in un limbo che li vede ormai fuori dalla lotta playoff ma allo stesso tempo a sole sette lunghezze dalla zona rossa. Anche il record complessivo della squadra viterbese non è dei migliori, le sconfitte infatti sono 11-7 i pareggi e invece solo 8 le vittorie. Anche lo score delle reti è negativo, sono 31 quelle fatte e 32 quelle subite. Una squadra ben costruita che annovera nella rosa calciatori di spessore come Giovanni Abbate, ex di Brescia e Trapani, che proprio all'andata andò a segno per la prima volta in campionato contro l'avellino. Era però un altro avellino quello che incassò tre gol in tuscia. Tornando ai civitonici rosso-blu proviamo a capire come il trainer Castellano potrebbe schierare i suoi in campo al partenio Lombardi. Possibile 4-4-2 con Vitali tra i pali, Carta e Dorsi, centrali di difesa mentre gli esterni bassi saranno Guadalupi e Capitan Lazzarini. In mediana Buono, Mignoni, Modesti e Giovannetti comporranno la cerniera di centrocampo. In avanti spazio ancora alla coppia formata da Abbate e Morbidelli. Ovviamente tutto è modificabile visto l'impegno ravvicinato della Flaminia che ha giocato domenica e dunque non ha beneficiato del giorno in più di riposo, a differenza dell'avellino che però, dal canto suo, ha affrontato comunque un viaggio più impegnativo per raggiungere l'anno 6 e poi tornare in Irpinia. Al di là delle contingenze, dei viaggi e dei giorni di riposo, la gara del partenio sarà l'ennesimo banco di prova per continuare a credere in una rimonta sportiva sensazionale.